mamma e papà non me la fanno usare la sauna perché dice che fa male ai bambini ragazzi qua dentro fa un caldo non si respira nemmeno forse è meglio che esco oh mio dio no 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 ragazzi ragazzi guardate papà non riesco nemmeno a camminare Gorgia? mamma e mamma a voi dove stai andando? a fare la spesa ok mi raccomando però eh fate i bravi te e il babbo si non ti preoccupare che cosa vuoi che ci succeda qui in casa? non lo so ma ultimamente basta che mi allontano 10 minuti e o ti senti male te o si sente male la Giorgina fate voi eh non ti preoccupare perché ora io e la Giorgina ci mettiamo davanti alla televisione e guardiamo un cartone animato che dici Giorgia? va bene hai visto? non ti preoccupare anzi però te non ci stare tutta la giornata a fare la spesa no quanto ci starò mai tempo di fare la spesa e torno ciao ciao andiamo Giorgia a vedere i cartoni animati babbo e allora che cosa vuoi fare? voglio andare fuori a giocare con il monopattino no no non esiste Giorgia fuori ci sono tre gradi fa freddo e rischi che ti ammali e se ti ammali non puoi andare a scuola anzi a proposito di scuola hai fatto i compiti? no allora vai su a fare i compiti no 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 mi hanno neanche a fare quella anzi sono più noiosi e allora scegli o cartone animato o compiti che vuoi fare? compiti e allora su vai a fare i compiti che continuo a vedere questo cartone animato va bene vediamo cosa devo fare però non c'ho mica tanta voglia di fare i compiti a parte dei compiti mi scappa anche la pipì ragazzi mi sono ricordata di una cosa questa qui non è una doccia normale come tutte le altre è una doccia sauna ragazzi vi ricordate che l'altro giorno ho fatto 24 ore nella vaschettro massaggio nel bagno di mamma e babbo? bene visto che questa sauna è nel mio bagno posso fare 24 ore nella sauna però c'è un problema mamma e babbo non me la fanno usare la sauna perché dice che fa male ai bambini non capisco perché eppure tutti dicono che la sauna fa benissimo alla pelle sapete che vi dico? ora la provo però devo tenere il bagno impegnato giù perché sennò mi scopre subito idea Georgia hanno suonato vai te ad aprire? no papà sto facendo i compiti ok allora vado io ma che sarà questo? sarà mica già tornata la mamma vediamo chi è non c'è nessuno no Georgia mi stai cadendo sbagliato perché è calcetto non c'è nessuno va bene babbo ma allora lo fanno apposta vado io Georgia non c'è nessuno non c'è nessuno o mi stanno prendendo in giro o ci sono dei ragazzini che si stanno divertendo con i campanelli no basta basta non li sopporto più di sicuro saranno dei ragazzini che si stanno divertendo a suonare ma questa volta li becco vediamo oh non c'è nessuno sono scappato di nuovo io non capisco perché si divertono con questi campanelli e non ci sono lo sapete che vi dico ora rimango qui mi nascondo così appena loro suonano li becco e li rimprovero perché non è tanto divertendo questo gioco mi sto anche stancando ragazzi avete capito cosa ho fatto? babbo salvo sarà fuori fin quando non becca quelli che stanno suonando ma suonare ero io io adesso ho tutto il tempo per fare la mia bellissima sauna allora dove mi avranno messo il costume la mamma? ehh no eccoli guarda questo costume messo nooo non mi sono ricordata che dentro la sauna fa caldo e se mi me ne siete ho bisogno dell'acqua vabbè andrò a prendere una bottiglia dell'acqua ok ora ho finito ora però devo vedere come funziona questa sauna perché non l'ho mai usata ma proprio mai ok ok oddio stavo per cadere vediamo qual è quella per accendere la sauna questo e le fecce in qua avanti boh non c'è mica un video qua dentro oh no 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 oh mi sta accendendo la luce ho indovinato facendo così gli spippoli a caso poi per aria no di sicuro no 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 air forse è air perché è aria secondo me è air non c'è che l'ho fatta vediamo l'aria calda come si accende non lo so tantissimo di più l'aria verrà molto calda come voglio io ragazzi lo sapete che faccio? ora mentre aspetto che si riscaldi tutta la sauna mi metto un po' d'acqua e piedi così posso giocare un po' con le mie paperelli eee ora mentre aspetto che si riscaldi tutta la sauna oh oh perfetto volevo proprio questo ciao sorella come va? però ragazzi fa caldo qua dentro mi è venuto un caldo lo sapete che faccio? ora abbiamo un po' d'acqua perché ho anche la cosa che si respira anche un po' male qua dentro meno male che l'ho portata ragazzi qua dentro fa un caldo non si respira nemmeno guardate anche quanto fumo mammina non respiro più non ce la faccio più c'è troppo caldo ragazzi non respiro più forse è meglio no ragazzi non ce la faccio non si respira proprio non si respira proprio c'è super caldo forse è meglio che esco oh mio dio no 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 ragazzi ragazzi guardate non si apri nooo mio dio papà papà non ce la faccio più respiro malissimo papà 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 vieni papà papà non riesco non riesco nemmeno a camminare non riesco gorgia sei stata lei a fare questo rumore gorgia perché non mi rispondi gorgia guarda che se hai rotto qualcosa mi arrabbio ora salgo gorgia che stai combinando gorgia ma che ci fai a terra gorgia gorgia che è successo gorgia gorgina ma che ci fai in costume ma che cosa hai combinato fammi vedere no lo sapevo guarda ha usato la saura mamma mia e ora gorgia è sgruta di sicuro gorgia mi rispondi per favore gorgia sveglia non capisco ma perché hai fatto la saura lo sanno tutte che la saura non è per bambini gorgia 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 sveglia sveglia ora cosa faccio gorgia gorgia sveglia ma non è quanto è calda ragazzi è caldissima ma da quanto è che stanno nella sauna salvo gorgia sono tornata c'è la spesa in macchina gizia viene subito su è successo un incidente come è successo un incidente che è successo è svenuta è svenuta è svenuta? come è svenuta? io lo sapevo mi allontano dieci minuti e succede qualcosa che ci fa un costume? allora si è fatta la sauna che ti devo dire? si è fatta la sauna ha fatto la sauna? salvo come ha fatto la sauna? perché gliela hai fatta fare? non è che gliela ho fatta fare io ero fuori io come eri fuori? perché eri fuori e gli ha fatto la sauna? ero fuori perché suonano il campanello di continuo e sono rimasto fuori venti minuti per vedere chi è che suonava e non ti è venuto in mente che poteva essere lei per tenerti fuori? eh? può essere ormai è successo però ora bisogna risvegliarla perché è svenuta non mi dà segni di vita che devo fare? ragazzi come si fa? giorgia allora fa una cosa salvo vai a prendere per favore ghiaccio e acqua e zucchero ok giorgia sveglia mamma amore come stai? come stai amore? no 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 stai giù stai giù come stai? mi sento un po' mi sento un tiro amore ma che ti è venuto in mente di fare la sauna? ho sentito che facevo bene alla pelle amore fa bene alla pelle ma ai grandi ai bambini gli fa male la sauna ma poi potevi chiedere al babbo ci stava lui lì con te la sauna ai bambini gli fa male amore te lo spiego io perché perché col calore i bambini non hanno un sistema di autoregolazione per il caldo e poi stengono eh? va bene amore è pericolosissimo che paura tieni Giorgia acqua e zucchero così ti riprendi subito bevi brava ok questo te lo metti in testa che la sacca con il ghiaccio così ti rinfreschi un po' eh? che è ricaldissima però Giorgia ti raccomando non lo fare mai più se rimanevi ancora qualche minuto dentro quella sauna rischiavi di morire ok? o comunque andare all'ospedale non lo fare mai più ci siamo capiti? mh ragazzi dobbiamo subito chiudere le riprese perché la Giorgina non sta tanto bene te Giorgia te la senti di fare la chiusura insieme a me? si babbo ok allora prima di continuare vuoi dire qualcosa ai nostri amici? si ragazzi non fate mai la sauna perché fa malissimo ai bambini capito? e poi se la volete fare chiedete sempre e state sempre vicini ai vostri genitori se no vi sentirete male come è capitato a me ragazzi se questo video vi è piaciuto lasciateci tanti like attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale e noi come sempre vi salutiamo con un grande wow ora Giorgia riposati pure cerca di riprenderti ok? e ai e ai